C'è anche un altro quesito che era importante porre per quella che è stata la vicenda di cui tanto si è parlata la settimana scorsa e che ha messo in una situazione di grande fibrillazione che ancora non si è assestata il mondo del calcio. La storia della Superlega europea. Guardate, considerando tutte le possibili implicazioni per il mondo del calcio nel complesso, lei si direbbe favorevole o contrario alla nascita di una competizione come la Superlega? Allora, premesso che coloro che dicono non saprei sono veramente in assoluto pochi, nel totale come vedete il 28%, vediamo che i favorevoli tra i tifosi sono il 25% e in generale il 19% soltanto. Tra i tifosi sono il 25% di cui il 41% dei tifosi della Juventus, il 22% dei tifosi del Milan, il 20% dei tifosi dell'Inter, il 20% dei tifosi di altre squadre. Nel mondo della tifoseria calcistica i contrari sono il 58%. Come vedete nel totale tutto si assesta con un 19% di favorevoli, un 53% di contrari e un 28% di persone che non seguono il calcio, non hanno un'opinione su questa questione. Vi devo ancora dire che l'eco ancora una volta del caso diplomatico espionistico del nostro militare che forniva informazioni a un esponente dell'ambasciata russa che è stato espulso, ha portato a una controespulsione. E' stato infatti espulso un diplomatico italiano come rappresaglia per la decisione di rimandare in patria due russi in seguito al caso dell'ufficiale di Marina, Walter Biot. La scelta di Mosca è caduta sull'addetto navale aggiunto dell'ambasciata d'Italia Mosca, al quale sono state date 24 ore per lasciare il paese. Abbiamo appreso con profondo rammarico della decisione della federazione russa, dice il nostro Ministero degli Esteri. Consideriamo la decisione infondata e ingiusta perché in ritorsione a una legittima misura presa dalle autorità italiane a difesa della propria sicurezza.